La mia Presidente, signor collega! Nel minuto, sono i consiglieri federali e i consiglieri federali per te, ma in la sessita e nila dovrebbero, e in altri, conseguentemente la forma di cortesia. Qua è un rituale vicino senza importanza, ma è una parte di una cultura di risposta coltivata. Il bus, formal, guida alle consiglieri federali e ai consiglieri federali per creare una distanza tra la chiusa e la persona. Perchè è qualcosa di importante? Perchè che i consiglieri facenti in politica mai dispitaibili nel consiglio federal? E perchè che i consiglieri e i consiglieri del consiglio federal hanno tre role? Ellas ed ells, come members di una partida, meinen in departament ed appartenen a di una rigenza che prende tutti i concluz come in aivlamain. In Svizzera regna la concordanza. Le forze politiche, le più importanti del paese, sono rappresentate in la rigenza. Mo' uscilla nasciano soluzioni acceptabili per la maggiorità che possono far valare nel Parlamento ed in una votazione del PIVAL. Le consiglieri federali ed i consiglieri federali defenden le loro posizioni e proposte nelle sessite della rigenza. Ellas ed ells cercano soluzioni e compromissi. Su entro la decisione, rappresentano ellas ed ells mo'pli in una posizione, quella del consiglio federal. Quai è il princip della collegialità? La collegialità e la concordanza empices centrales dal sistema politico Svizzera. Per ells vali la pena da midar dal T al VUS durante tre esures per emna.